Tra una settimana ho gli iscritti Adesso avrò già fatto italiano e starò morendo perché domani avrei matematica Sapete quando tutti dicono non vedo l'ora di togliermi questo esame? No, no, io non è che non vedo l'ora, io non lo voglio fare questo esame, no Secondo il mio programma oggi devo ripassare biologia Io odi biologia